Sono Francesca Irene Sensini e sono professoressa associata all'Université Côte d'Azur di Nizza, insegno italianistica e mi occupo tra le altre cose di letteratura e donne e studi di genere in campo letterario. Marise Ferro è una delle autrici che studio e su cui faccio ricerca da diversi anni. Marise Ferro è nata a Ventimiglia nel 1905 ed è morta a Sestri Levante nel 1991. È stata scrittrice, traduttrice dal francese soprattutto, giornalista, ha collaborato con quotidiani come La Stampa, La Stampa Sera, Milano Sera e ha collaborato con molte riviste letterarie, tra cui PAN, La Fiera Letteraria, Femmina, L'Europeo. I temi che tratta, che sono al centro della sua riflessione letteraria, sono essenzialmente la condizione delle donne, la mistica del femminile del materno, i cambiamenti che la società italiana ha attraversato nel novecento e il tema della violenza, declinata sia nella storia che nell'ambito delle relazioni familiari e dei rapporti amorosi. Tra le sue opere, La guerra è stupida, edita per la prima volta nel 1949, è insieme un romanzo e un pamphlet contro la guerra. È un libro che si legge d'un fiato, un viaggio e nella memoria di un decennio, 1935-1945, ed è un viaggio anche nei luoghi. Si parte da Londra nel 1935 e si attraversa poi l'Italia, Sestri Levante, Milano, Ventimiglia, fino ad arrivare poi in alcuni paesini della provincia lombarda. Questa nuova edizione permette quindi di ritrovare una scrittrice che purtroppo non è entrata nel canone, come spesso succede alle donne che hanno fatto mestieri di penne. Lai in fondo lo sapeva, perché lo disse anche da viva, che sarebbe stata destinata purtroppo all'oblio, nonostante tutti i suoi scritti e nonostante il successo letterario e la fama che aveva ottenuto durante la vita. Noi abbiamo cercato di rimediare a questo problema ed errore del canone, rieditando una scrittrice che a tutti gli effetti è la Colette italiana, quindi variletta riscoperta e apprezzata a suo giusto valore. Grazie a tutti.